Musica Ciao, allora oggi vediamo l'album del libro Shea, sempre in formato digitale, lo vedremo dopo e l'album numero 11 valido fino all'8 settembre del 2015 e vedrete delle novità imperdibili e soprattutto tante promozioni per rientrare dalle vacanze e salutare i misi in forma quindi tanti sette per i capelli, per il viso e quindi tante lezioni limitate quindi wow, un album davvero da prendere al volo, direi di andare subito a sfogliarlo sul computer Eccoci qui, allora questo è l'album numero 11 valido fino all'8 settembre del 2015 Primo prodotto che vediamo subito è la novità ed è il siero per capelli, il siero sublimatore capelli quindi lo vediamo nella pagina qui, eccolo è un siero che intanto non contiene silicone, quindi un'ottima cosa perché il nici davvero ottimo con microi 100% vegetali ed ha l'attenzione di rendere i capelli più esistenti e di proteggerli dalla rottura quindi sono perfetti per i capelli dopo e dell'estate, per il cambio di stagione quando tendono a cambiare un po' di più oppure per ristrutturarli per i danni dovuti dal phon, piastra e quindi sempre un ottimo prodotto e rende i capelli morbidi brillanti, rinforzati e morbidi ed si può usare sui capelli sia umidi che asciutti per i capelli vediamo anche questi set speciali che comprendono due shampoo a 5 euro quindi abbiamo il set con i due shampoo trattamento nutriente oppure il trattamento ed è luminosità quello shampoo delicato alla romance o lo shampoo pulificante abbiamo anche lo shampoo volumizzante sempre 7 e 2 lo shampoo 2 in 1, eccolo qua quello è 3 in 1, scusatemi, quello è per tutta la famiglia oppure lo shampoo riparatore o quello anti età abbiamo poi anche ovviamente quello di shampoo, quello per i ricci definiti quello per i capelli colorati e lo shampoo crema delicato e poi ci sono quelli per i capelli colorati quindi quello per i riflessi castani, riflessi dorati e quello per il luminosità ai capelli bianchi sempre due shampoo a 5 euro a 6,50 invece abbiamo lo shampoo trattante, quello antifluorco, sempre il set a 2 3,95 in offerta a tutti i balsami quindi ogni tipo di balsami che si utilizza per fare una combinazione e un prodotto unico per un trattamento a capelli e simon shampoo quindi davvero ottima offerta abbiamo anche 6,95 tutti i trattamenti per i capelli quindi sempre per fare una combinazione di ristrutturare tutti i capelli dopo l'estate e 6,95 anche le maschere, l'olio al ripartore ai capelli e l'aceto da risciacquo 7 euro invece 7 a 2 per il shampoo stimolante e quello antifluorco ora vediamo il set per le mani eccole qui perché abbiamo il set per le mani vi faccio vedere il prezzo ecco la 9,95 il set che comprende la creva mani e lo smalto effetto gel quello colorato il colore tranquillamente lo scegliete voi e top coat no scusate la base e 3,5 è importante ovviamente tra le onglie quindi creva mani base è importante e smalto colorato effetto gel tra i colori che potete scegliere eccoci e anche tra questi e il set costa 9,95 solo lo smalto costa 4,95 quindi vedete subito da voi l'offerta andiamo avanti altra novità abbiamo il buffer per lucidare le unghie quindi un unico mattoncino 4,95 compende tutti i polotti per la cuore delle unghie quindi la lima quello per legare quello per lucidare quello per effetto finale che dà brillantezza altri polotti per le mani più perfette di fine serie quindi polotti che andranno in esaurimento la base a unghie levigante lo smalto bianco per la French il fluido asciuga rapida trattamento sfogliante unghie cuticole e lo smalto brillante indurente in 3 colori eccoli qui andiamo avanti ora abbiamo il set per la cura del viso quindi abbiamo il primo set che è il pool system a 9,95 e comprende l'ozione purificante e il trattamento anti imperfezioni della linea stevo vegetale sempre a 9,95 abbiamo il set che comprende l'acqua micellare purificante 2 in 1 e il gel crema 0 difetti mentre della linea idrovegetale circa 9,95 abbiamo l'acqua micellare idrotante 2 in 1 e il set che comprende il gel crema intensa 24 ore oppure il crema ricca idrotante e idrotazione 24 ore oppure la crema idrotante con protezione 25 l'acqua micellare ovviamente è sempre compresa e non in set sempre per l'acqua del viso abbiamo anche all'inascere un vegetale quell'illuminante che comprende a 15,95 ecco qui il latte detergente levigante e il trattamento levigante giorno oppure eccolo qui il set all'importante con il latte detergente levigante e il trattamento all'importante giorno a 17,95 oppure a 20,95 e il trattamento a modellante quindi con l'acqua del detergente levigante e il trattamento a modellante giorno mi fermo un attimo per ricordarvi che è ancora iniezione limitata questo gel doccia blu vegetale a 1,50 euro ed è una delle ultime occasioni che poterlo prendere perché finito il periodo estivo andrà in esaurimento altro set questo per il corpo abbiamo il tradizion del mamma 17,95 che comprende l'olio doccia orientale e il balsamo di arganti nutriente e ora abbiamo il set per i piedi 12,95 abbiamo il set che comprende il gommage la crema nutriente e il top coat effetto gloss abbiamo ora ecco di qua il set delle plasie mature e il set che comprendono delle profumazioni che adesso vi faccio vedere ecco di qui a 9,95 ogni set comprendono il latte corpo quello da 400 ml e il gel doccia sfogliante la 200 ml abbiamo le profumazioni alla pesca il set al ampone il set alla mora o quello alla vaniglia ecco qui un'altra promozione 2 bassa minabra solo 3 euro quindi tra tutti quei disponibili potete scegliere il primo a 1,95 con il codice normale e il secondo con il codice rosso per avere la promozione e avere il prezzo a 3 euro quindi pagando molto meno edizione limitata questa è una fine serie ed è mascara dell'edizione limitata sexy pulp eccola qua questo è quello nero e sapete come mascara che io adoro adoro perché è molto molto valido edizione limitata estiva questa è nella colorazione fucsia quindi è anche molto incolore estivo molto allegro eccoci allora abbiamo visto tutto e qui sotto come sempre il link per contattarmi per le informazioni per gli ordini tranquillamente anche il link per scaricare in formato PDF e catalogo così lo potete tranquillamente sfogliare con calma ed è vi ricordo che l'album numero 11 valido fino all'8 settembre del 2015 e non vi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con la Magica Cattura del Mondo di Brochet per la Magica Cattura del Mondo 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 per la Magica Cattura del Mondo